Praticamente vediamo dove le persone reagiscono più. Se reagiscono più sulla right o sulla lefta. A volte questo può essere collegato con il padre o il padre. Potrebbe il suo padre era molto lì. E potrebbe il suo padre era un po' absente. Non è pieno, perché lei aveva sinistro. Non la progetto è possibile, che le persone ha chiesto più grandi e glattine. Il fa pari, ed è quello che vuoi la reazione. L'altra parte è che quando si vede più reazioni, continua lì. Il genere è il nostro percorso. Il nostro percorso. Il nostro percorso, c'è chi ha chiesto. In ogni caso, se non lo sapete, quando vedete che l'occhio è leggermente su un lato, normalmente questo è il lato dove dovete fare passi, perché lei è già andata verso questa direzione. Vediamo che lei, a volte, va avanti e avanti. E ora, lei ha ancora questa reazione su questo lato. Io vedo che lei riavisce molto. Ma quando si riuscita, posso arrivare e prendere controllo. Perché quando una persona riuscita, ha perduto la sua controlla. Inoltre non riuscite. Inoltre non riuscite. E molte volte bloccato la riuscita in una persona, come ho fatto con ella, e inoltre non riuscite.